Villa Santa Lucia degli Abruzzi è un comune di 89 abitanti detti villesi, fa parte della provincia dell'Aquila e la patrona è naturalmente Santa Lucia. Secondo comune meno popolato della provincia, quarto della regione, quarantasettesimo in Italia, fa parte della comunità montana di Campo Imperatore Piana di Navelli e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Le origini dell'insediamento vengono fatte risalire al periodo italico, ovvero tra il 1000 e il 400 a.C., quando il centro sarebbe stato sotto il dominio di Aufinum, nei pressi di Capestrano, città vestina, da cui il nome di Aufines Cismontani, avamposto di protezione della valle sottostante, dove fu eretta, tra l'altro, la sepoltura di Nevio Pompuledio, il guerriero di Capestrano. Fra il 775 e l'800 d.C., Aceprando, ex guerriero longobardo di re Desiderio, insieme ad altri insorti raggiunse la sorgente di Villocchera, dove si stabilì. Tra il 950 e il 1000 d.C., Villocchera si ingrandì e assunse il nome di Villa, poi di Villa Santa Lucia, per la venerazione della Santa Siracusana in Corfinio. La chiesa di Santa Lucia è citata in una bolla di Papa Pasquale II, pubblicata nel 1112.